Allora, lanciamo sti 10 ticket che mi sono rimasti dall'ultimo pacchetto che avevo preso, quindi circa, non so, tre mesi fa Ok, ciocobo giallo Male, meno male che sono ticket e non gemme, almeno piango con un occhio solo No, sto pullando ora, abbiamo chiacchierato un pochettino, ho aspettato un po' ma sto pullando adesso Ok, Cloud Normale, già, malissimo, partiamo malissimo Partiamo malissimo, proprio male, ma male, male, male Vabbè, non è detto, potrebbe fare un bel Perry, una bella schivata Schivata Perry Dai, ok, va benissimo, sono contento Oh, oh Minchia, due Yuffie? L'arma di Yuffie nuova mi stai dando già subito? Non ci credo Su quella che aumenta l'attacco, ma di chi? Di Barrett? Quella di Barrett è la micro laser, se vi interessa il nome Mentre invece di Matt è la Branded Spine Minchia, l'arma nuova di Yuffie Aia Io la conosco questa tattica del gioco Io la conosco questa tattica del gioco Io questa tattica del gioco Oh Ecco Io questa tattica la conosco Lo sta facendo apposta il gioco per farmi pullare anche la skin di Yuffie Ma non ci casco Non ci casco Signor giudice Non ci casco Un'altra È già il primo overboost e ce l'abbiamo Così a prima multi Eccola, la Brumble Spine Questa è quella di Matt Vabbè, possiamo skippare Lo conosco questo metodo del gioco Lo conosco questo metodo io Già, già Io già lo conosco questa Questa tipologia di cosa la conosco del gioco Noi siamo qui per il professore Sì, però ho capito che Uno stamp va bene Però Cioè Mi sa che stiamo un po' esagerando Con questo stamp singolo Vorrei conservarla qualche gemma Per un ipotetico prossimo banner Cioè Se mi fate la cortesia Di non farmi spendere tutto Per il costume di Matt Io ne sarei più contento Sarei più felice Sarei più felice Sarei più felice Schivata Perry Bene Bene Silenzio Non parliamo Una sola Kitesit Ok È il yellow megaphone Sì Ok Va benissimo Va benissimo Va benissimo Sì però La mia wishlist è praticamente Tutte le armi nuove Tranne quella di Kitesit Cioè tutte le armi nuove Che abbiamo avuto precedentemente Tranne quella di Kitesit Che voglio maxarmi Lo yellow megaphone Quindi l'arma nuova di Barrett L'arma nuova di Tifa L'arma nuova di Red Tutte le armi nuove Sì però qua Non mi sta piacendo Uno stampo così Tutte Anche no Uh Silenzio Silenzio Red Quindi dovrebbe essere Quella nuova di Red In teoria Perché Red L'ho messo in wishlist Che tra l'altro Quest'arma di Red Non è male Perché è quella Che riduce Sia la fuoco Che ghiaccio Quindi Non è male Non è male Non ho il costume Di Red Ma Sti cazzi Non mi interessa Mi interessa più l'arma Sì È quella È quella È quella Va bene Va bene Va bene Anche a singola copia Mi andrebbe bene In realtà Anche a singola copia Mi andrebbe bene Anche a singola copia Mi andrebbe Mi va bene La posso tenere Anche in singola copia Questa Perché Mi serve semplicemente Per debuffare E sono già in Mid Max potency High Quindi Già di base Va bene Certo Portarla ovviamente Poi Direttamente High Sarebbe una cosa incredibile Ma Piano 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 Comunque La mia wishlist È questa Se non l'aveste vista Ho praticamente Tutte le armi nuove Tranne quella di kite Che sto preferendo Praticamente Yellow megaphone E quella che In realtà Vorrei tanto trovare È quella di Barrett L'electro gun Di Barrett Oh Ciocobo rosso Ok Che poi Vabbè È tipo Mezzo rosa Però Vabbè Qui abbiamo La garantita di Matt Va benissimo Però Se oltre la garantita di Matt Ci fosse anche Barrett Io Vabbè Qui posso Schippare Tanto Oh Zack Ma io Zack Non l'ho messo Nella wishlist È un Off banner Cosa mi Interesserebbe Di Zack Fatemi pensare Forse La ceremonial Grazie 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 Va bene Va benissimo Va benissimo Va benissimo E poi abbiamo L'arma nuova di Matt Va benissimo Ah Guardalo qui Il siringone Il siringone Il siringone Sì ma Barrett Ancora niente Però eh Non mi piace Questa cosa Dov'è Barrett Dovete darmi L'arma nuova Di Barrett Eh di nuovo C'è Copo giallo Bastardo Guarda Ti perdono Solo se mi fai uscire L'arma di Barrett Perché altrimenti Mi incazzo Come una iena Ok cloud Che vabbè È normale Un bel Perry Una bella schivata Magari doppia arma Di Barrett Così giusto E anche Matt Nel mezzo Due armi di Barrett Una di Matt Eh Perry Va benissimo Va benissimo Yuffie e Tifa Ok Tifa è quella nuova E Yuffie Già overboost 2 C'è mi è finito Al contrario Un'altra volta Perché mi finisce Al contrario Ogni volta Che pullo Per un personaggio E mi esce E mi esce L'altro Cioè Devo Devo giocare Al contrario Mi sa Devo giocare Al contrario Ok Questa è quella Di Tifa Quell'acqua nuova Vero? Yes La coniglietta La coniglietta La coniglietta D'acqua Va bene Va bene Va bene Bunny gloves Con la mia Rare Con la mia Tifa Vediamo se con gli uffi Ho vinto il 50 e 50 Ebbene sì Un altro 50 e 50 Quindi siamo già Due overboost E in tutto ciò Barrett Muto Che non mi esce Va bene In tutto ciò Barrett Non ne vuole sapere Di uscire Cioè mi sono uscite Praticamente tutte Ma ancora Barrett È rimasto lì Muto Allora Uno stamp Va bene Lo accetto Però 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 Non va bene Così Dai Su 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 Ole Va benissimo Eris E due red Vabbè Fa un culo E Barrett Muto Barrett Non esce Barrett Non esce Barrett Non esce Allora Questa è quella di Eris Quella nuova Top Top Fuoco Va benissimo Madonna Ma è enorme Sta cazzo Di 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 Staffa Pensavo fosse Più piccolino Madonna Un cesto di uova Grosso quanto Niente Quanto un testicolo Di Barrett Probabilmente Si è offeso Perché È vero Possibilmente È vero Si è Si è Offeso Si è Offeso Ovviamente Barrett Guarda Mi accontenterei Della singola copia Dell'arma Di Barrett Vi giuro È sempre La stessa Yes Ivy Collar Quindi Overboost Uno Overboost Due Overboost Due Ok Silenzio Silenzio C'è 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 Due Stamp Va bene Dai Se Dai Barrett Ti prego Barrett Io voglio C'è Veramente Quella di Barrett È quella Che desidero Di più Sinceramente Parlando È quella Che desidero Di più Di Barrett Ti prego Barrett Va bene Perry Ottima Veramente Mi sta andando Di lusso Non mi posso Lamentare Niente Tifa Va bene Quindi Primo Overboost Vediamo Se ce l'abbiamo Sì Va bene Funny Gloves Ho trovato L'arma Nuova Di Kite Ma vabbè Sti cazzi Ok Sono a 30.000 Non mi posso Neanche lamentare Non mi è andata Neanche Veramente Cioè Non mi è andata Veramente Veramente Bene Però Vediamo Ok Abbiamo il costume Va benissimo Dobbiamo finire Ti prego Barrett Esci qui Ti prego Barrett Esci qui Non ho più possibilità Di venirti a cercare Se no a me Se io voglio Barrett Ti prego Barrett Non è detto Che qui abbiamo Armi 5 stelle Perché abbiamo Garantito il costume Ma Le armi 5 stelle Potrebbero farmi Man E quindi Ti prego Due Barrett Dammi una doppia Di Barrett E chiudiamo Veramente di lusso Vabbè Oh Ragazzi Non ho Non ho Non ho shaftato Una multi Mi è andata D'addio Mi è andata D'addio Su questo Non posso dire Nulla No è Kite Quello No È Kite Va bene Se il Yellow Megafone Lo accetto Ok Va bene Buono Buonissimo È Barrett Muto Muto Barrett Che non esce Muto Muto Barrett Niente Incazzato come un mostro Barrett L'ho offeso L'ho offeso Barrett L'ho offeso Niente Va bene Va bene Va bene Va bene Mi è andata Mi è andata Di lusso Mi è andata